Buonasera ragazzi, eccoci qui con la seconda analisi di oggi, andremo ad analizzare Fiorentina-Salernitana una partita un po' stravagante, come risultato secondo me può finire un po' in qualsiasi modo Fiorentina che a mio avviso gioca bene in casa, comunque mi piace, le partite che ho visto mi piacciono nonostante i risultati, perché comunque 2 vinte, 2 pareggiate e 2 perse vuol dire che non è poi tutto questo granché tra l'altro 11 gol subiti in 6 partite, quindi quasi 2 gol a partita subisce è Salernitana che più o meno eguaglia le statistiche della Fiorentina, infatti sarà una partita secondo me molto equilibrata e vorrei andare a puntare una cosuccia interessante, sapete che a me piace tanto il gol dell'ex infatti oggi, visto che c'è Terracciano in porta con la Fiorentina che di media subisce quasi un gol a partita andremo a puntare Christoph Piontek, quota 4 e 25, imperdibile questa quota